Venerdì di pausa per i carotaggi sulla Torino-Lione, ma i due fronti preparano le manifestazioni del weekend. Domani contraria la TAV, domenica è favorevoli. Adesso la TAV a Torino è in corso, la riunione dell'osservatorio tecnico, mentre non è previsto nessun nuovo carotaggio del terreno fino alla prossima settimana. E c'è attesa per le manifestazioni, dei contrari alla TAV domani e dei favorevoli domenica. Intanto è polemica sulle dichiarazioni di Umberto Bossi sull'utilità dell'opera. Caterina Cannava. In Val Susa nessun nuovo carotaggio, i sondaggi del terreno riprenderanno la prossima settimana, ne sono stati effettuati 11 sui 12 previsti per questo mese. Nella riunione di stamattina dell'osservatorio presieduto da Virano, le valutazioni dei tracciati da consegnare entro gennaio ai progettisti avranno tempo dal 1 febbraio a fine giugno per redigere il progetto preliminare. Analizzati via via i risultati dei carotaggi per confrontare l'ipotesi di tracciato con eventuali situazioni particolari del terreno e dell'ambiente. E c'è grande attesa per le manifestazioni dei prossimi giorni. Domani i notav in corteo dal presidio permanente di Susa chiamano a raccolta comitati, amministratori e cittadini per una forte mobilitazione popolare. Domenica all'ingotto la riunione dei CTAV in un rovente clima elettorale. Polemica per le parole di Bossi. Non lo so, non so neppure se il Piemonte ha bisogno dell'attav. So che il Piemonte ha bisogno di restare collegato alla Lombardia. Secondo Mercedes Bresso, per il centro-sinistra, molti esponenti della destra, in particolare leghisti, sono contrari alla TAV. Per il leghista Roberto Cota, l'intervista Bossi riprende quanto già detto. Per il Piemonte, la TAV è un'opportunità per collegarsi all'Europa.